Il Campo Coni sarà Villaggio Universiadi, punto di riferimento per gli atleti nel corso dell'evento internazionale che coinvolge tutta la campania. Presentazione in conferenza al Circolo della Stampa di Avellino con il delegato Aru Bruno Jovino. Siamo arrivati al punto giusto grazie all'impegno dell'ingegnere Basile, di tutta la struttura tecnica, prima anche qui l'architetto genovese, direttore di area tecnica, rapporto di collaborazione massima con il CONI, con le istituzioni, tutte le sinergie. L'evento straordinario che ci ha messo in moto ancora di più la manifestazione è stata la fiaccola che ringrazio pubblicamente tutti perché effettivamente è stato un evento straordinario, eccezionale, quindi era doveroso insistere per l'apertura del Campo Coni e ci siamo riusciti. Alla suo fianco il sindaco di Avellino Gianluca Festa, il delegato CONI provinciale Giuseppe Saviano e il direttore game service delle universiadi l'architetto Vincenzo Maria Genovese. Il Campo Coni, dopo il restyling, merita la giusta attenzione da parte dei cittadini. Credo che in un giro di 30 giorni la situazione sarà perfettamente fattibile per tutti ciò che vogliono divertire. L'unica cosa è mantenercela in un certo modo perché poi costruire ci vuole tempo, ci vuole molto, ma distruggerne che ci vuole. Quindi è un invito per tutti quanti che la struttura deve rimanere in una certa garanzia per tutti quanti.